guarda non ci sono one trick al di pole di kaisa e anivia insieme alla nostra squadra mi pare ottimo comunque per visito la mid lane il 2b2 la possiamo vincere ma la possiamo anche perdere dipende dallo stand di anivia credo alla fine anche bot è gancabile abbiamo veramente delle belle lane mi piace mi piace mi piace reitano basta che siano facili e uno vale l'altro opta per qualcosa di semplice meccanicamente così non devi pensare al campione almeno non troppo ecco puoi iniziare da warwick o un tankozzo tipo sejuani ma ho dato già una facciata è troppo così come tutte le altre troll skin con il pigiama sono davvero adorabili ce l'è un grabbino? oh se vuoi provarci grabba ci abbiamo provato dai non so se andare a base a prendere lo sweeper mi sembra un po' tardi ma guarda che a parte il fatto che la skin è bellissima poi non è facile aggancare lo schipino lì grazie drugolo bentornato penso che invece giocherò per la mid lane l'unica cosa noiosa è il face rush ma in qualche modo faremo oh cosa vuole rise ho guardato e io non lo sweeper fuck vabbè ti vuoi tankare un hit? grazie no non l'ha tankato scammato ha fatto anche la finta ha fatto è l'uso sono rimasto un po' male e vabbè ciao jenny ciao ale vediamo se riusciamo a continuare questa win streak oggi quella che abbiamo iniziato sull'altro account bonk senti che bel suono che fa poi quasi bello come quello di mordekaiser direi grazie non si è rubato la mia jungle bot side vero? non credo però non l'ho visto dove ho startato ops mi sono distratto un attimino mi ero metto per iniziare a giocare di carry guarda io ti direi la prima cosa dovresti imparare a farmare quello vale per qualsiasi ruolo che non sia support e jungle ovviamente e per farmare intendo la sitare minion cioè basterebbe farmare per vincere ogni game ho il 90% del game farmare tipo broken quanto pare c'è grace perché non è Il nostro AD Carry ha appena perso non vieno contro Leona Grazie al flash presso da me abbiamo vinto il game o sbaglio I don't need you to rule that you I don't need you to rule that you Possiamo petare bot Dovrebbero essere morti Perché ha grabato Ma questo blitz Poteva grabare l'ora Potevamo aprire double Che peccato Mamma che pizze Mi tira il drake Questo roccioso Uno ogni tanto ma fa male Comunque prima con qualità da lì Della W su Rides mi pare Oh su Gin Ho fatto flashare entrambi Abbiamo in intergame Qualcola roba lì È stata un po' una coincidenza È un caso Ehi Bene Abbiamo una bella lead, abbiamo Devo andare a fare il red buff, però E devo prendere la forma, manca poco poco Ehi, ciao Samira Se non vado base, oh, zero danni Ho solamente le scarpe da lanciare, le ciabatte Per... devi sbloccare Dall'home page, credo, se ho capito bene qual è la domanda Gnarr è quasi mega, che dita Vogliamo provare un ganchino? Jarek sta pushando, ma non sono sicuro si avvicina la torre Cioè, non penso possa tirare alcuna badirata contro Gnarr Perché non penso sia ragionevole gancare Ci potrebbe essere Grayson e mi aggiungo lì insieme a Iori, comunque Ho un po' paura No, allora solamente ho guardato Prudente Potrebbe aver guardato anche Deep Perchè le Anivia main non deludo mai? Ho mai visto un Anivia main perdere la lane Incredibili sono Mi hanno dato a perdere botte un tavola lead C'era Graves? C'era Oh, no, Grayson c'era Devo davvero fechar, eh? Restiamo e ho la forma Poteva andare a strezzo, le ho la mano È accettabile Ho anche un po' di soldi in tasca Abbastanza per prendere Item, spada Vorrei fare un po' di danno adesso Perfetto Questo è un buon base E bravo anche Gnarr Tra l'altro loro sono veramente full addiano Solamente Raids AP E Raids sembra essere behind, ottimo Oh Non abbiamo più la bot, vero? Anzi, che saluti app a momenti Non è morta Bene, bene, bene Cosa ne penso le patch? Non ho letto ancora patch notes Quali sono i prossimi buff nerf Che andranno a fare? Il dead è vabile comunque Non ha il face rush Io non ho nel face rush Dovrei provare a punire ancora Tanto non avrei quella Sto blitzker Come on Ma quei wall che danno fanno Oh, oh, oh Che sfiga, io ero crema Sto parlando di vita Ma Ma Che va, Iori Ma è matto Ma non aveva il segnare o cosa? Boh Sono perplesso Ma io vado a prendermi Ah Raids ancora Il mio amico Raids Così lo facciamo tiltare, via Oh mio dio Povero Raids Quanti crowd controllo sulla nuca Andiamo a arrivare al blue buff Ma Iori fa dei danni assurdi Anche se non build di troll Dimanerà letaliti Anche non letaliti di orifond È un danno assurdo Guarda Mi ha fatto morire Boh 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 Cioè se ti dico di devare Dai va Non è che Stai lì fermo Poi mi segui in ritardo O ci provi o non ci provi Non ha senso fare Quello che ha fatto lei Lamentarsi del fatto Che io provi a fare delle giocate Quello di Iori Che lo one shot Resto full vita E poi andiamo via insieme Aia No 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 I goals Maledetti goals Vabbè Fortunatamente è pazzo Gli avversari stanno facendo l'herald Lì potevamo inire a fare l'herald Non stanno facendo l'herald What Vogliamo andare a cercare Riesel l'abbiamo trovato C'è lo scatto il precaso 50 secondi al drago Se faccio l'herald Finisco di Non lo so Rischio di riperci con poco mana Se no prendo un base E prendo i miei item E mi do una buona idea Oh Non l'ho visto Mannagina Le volte leggo la chat Non vedo le pincozze Ci passo sopra Ma non ho la ulti però Kai si è addoggiato No Ma si è addoggiato con la ulti Magico Blitz No mi hanno visto vero Oh shit mi hanno visto Ah sono un Ah no Non play this Potevo Ah ho pensato di essere sneaky sneaky Invece non ero per niente Sneaky sneaky Potevo fare Rubare il Ah potevo fare un sacco di cose Potevo fare Ah che Ah che palle Mannaggia Perché la bozza è ammazzata poi pure 22 Adesso tippa Ah però Giusto in tempo insomma E' colpa mia che Pensavo di essere Invisibile E invece Non ero invisibile Anche colpa della bot Bisogna andare subito al Drake Bisogna andare Cioè io potevo Intentare una giocata più safe Invece di fare Quella pagiacciata Mi sarei preso Nari si è fatto il blue buff Ma come ti viene in mente Di fare il blue buff Ma sei scemo E berserano dei draghi Ne abbiamo uno C'è l'herald Ce lo scatto La breve Io non ci sono lì occhio L'ho one shot no? Bravi ragazzi Intanto lavorerei col blue buff Beh rubiamoci anche il gromp E facciamo l'herald Lo inizio Se nessuno lo inizia Guarda che si fa tempo Ehi non fa schifo l'herald Qualcuno deve andare bot Dunque Serpent's Fang Non ha senso Allora abbigliamo l'altro Abbigliamo sto giro Zero scudi Purtroppo No Non nemmeno preso L'immortal shield bow No blitz Non mi pare il caso Mi spavento ma È matto Il ragazzo è matto Se ultano ride Qui c'è con rides La kaisa bot Secondo me è pieno di ward Qui Abbiamo anche un varan veloce Un posto Serve solamente lo spike di kaisa Questo blitz ce l'ha con grace Ogni volta grabba lui Poi generalmente si ammazza Però grace lo grabba Ma non possiamo fare il baron Scusate Grace mort Rise mort Rise altp Guarda non c'è fretta In realtà Ancora mi dura parecchio Aspettiamo il momento Giusto Devo levare le ward Però mannaggia a me Soprattutto se ci passo sopra Soprattutto se ci passo sopra What Però questo mezzo teleport Posso andare bot Non sono sicuro Mi convenga Facciamoci il drake Basta va Ha flashato Si Era da flashato Si Se non è meglio di me Allora Dopo i lupi posso andare back E fare letality item Into stopwatch E sono anche quasi a livello 16 Io non penso di poterlo abbrastare Rancore di Serilla Secondo item Non ha difese Ma Questi goal Slow No Grazie per il sub Oh no La batta trollato Oh no La batta trollato Meno male E' vero Tre livelli sopra Se perdevo i sui smite Pizer E' stato grave Cavoli Erano gli unici E' vero il Baron Ha nasce opportunatamente anche Gnar Sono dei criminali questi due Posso fare un obbiove se non trovo la no hard Due al Drake Allora il Baron L'abbiamo praticamente sprecato Ancora regolato Ma 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 Possiamo rubare il red Il problema è che loro hanno un ottimo engage Dobbiamo fare kiting back O eventualmente sfruttare l'out ignare Se proprio è Ok guardato Quanto manca il Baron Abbiamo ancora una wave e mezzo Due Possiamo farci forti Credo Ma scusa ma è legale Il fatto che Yerick manda il suo petto A split pushare Nel mentre mi doffetare A me non pare ok Cioè non è broken sta roba Ma è che Che ingaggio le matri Vedi che c'è la congraze Te l'ho detto Kaisa con la R in Ah però Coraggiosa Non panno essere così bad Ma un Kaisa che ha fatto la R in Il drago era già finito Kaisa ha fatto la R in Su un target che era già morto Di ignited blitzcrank Succidandosi Ignar ha tippato Colpa mia Grazie a tutti Allora Ginella Zonia Rise alla Zonia C'è il Baron in 50 Mettiamo la botta in push Andiamo ok Il blitz crancone E di lui Graves Ha lo script per grabbare Graves Solo Graves Ma Graves Porca misera Graves Non ha chance Leona mi ha fatto La ponte è stata molto gentile Poverina Ma infatti il blitz ha dato una bella mano Delle volte è intato Ma dei grab ce li aveva Povero Graves Sarà stato flammato la sua squadra Gli ho il cuore scena Della blitz Graves shotcoding Più o meno Oh Chi è che sta flammando Graves Jungle Gap Per 9 Graves Beh i nostri sporci danni Li abbiamo fatti Invece Gnar ha fatto Rentei stani di blitz Come è possibile Ma anche perché In una lane phase del genere Penso che ti boosti il damage No? Cioè prendi Prendi Il signore di Oric Ha boomerangate sulla nuca E in teoria Boh Boh Invece ha fatto Poglissima di PS Poglissima di PS